Perla Maria è infuriata. Va in onda nella nuova puntata di Pomeriggio 5 il filmato con lo sfogo della figlia di Maria Monset, ormai famosa al pubblico di Canale 5 per la sua spigliatezza e loquacità Appreso da me ammette Maria, di fronte ai complimenti di Lorin del Santo che ha ascoltato, come tutti, le dure parole di Perla Maria nei confronti della Marchesa del Secco d'Aragona La bambina, che ricordiamo avere solo 13 anni, proprio non ha mandato giù alcuni comportamenti della nemica della sua mamma Così, nel video, Perla esordisce spiegando cosa l'abbia fatta arrabbiare così tanto, domenica scorsa ti ho vista e domenica live sono davvero rimasta a bocca aperta, e spiega, perché, mentre tutti noi stavamo a Napoli ad aspettarti, tu ti prendevi il dè, stavi in accappatoio, eri pronta a farti la doccia Perla Maria furiosa con la Marchesa.Ma Perla Maria è un fiume in piena.A pomeriggio 5, la figlia di Maria Monset fa una lunga invettiva, io mi aspettavo di vedere, finalmente, un video di te in chiesa che ti confessavi, perché tutte le bugie che tu hai detto si chiama peccato veniale La bambina continua, inoltre mi ha dato molto fastidio quando tu ti sei alzata e hai iniziato a dire di chiamare il telefono azzurro A. Sono una ragazzina che mi so difendere da sola, e b. Ho dei genitori fantastici, che quando arriverà il giorno più bello della mia vita, che mi sposerò, ci sarà sia mio padre che mia madre e lui mi accompagnerà all'altare Perla conclude allora il suo lungo video sfogo con queste parole, tu quando sei in difficoltà cerchi sempre di cambiare discorso Te lo chiedo anche io adesso, ci vuole sono scusa, una parolina semplice Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like